Ci teniamo stretto questo punto anche perché poi non abbiamo creato così tanto, non ci hanno concesso così tanto e quindi penso che sia un grandissimo punto che ci permette di continuare sulla striscia di risultati positivi. Quindi cerchiamo di stare compatti, facciamo il massimo che dobbiamo fare, ci teniamo stretto a questa posizione del playoff e poi quello che verrà lo prenderemo volentieri. L'importante è muovere la classifica, in Punta Catania e non so poi con la Ternana, però sono punti d'oro comunque sia, quindi noi stiamo dando il massimo, il nostro massimo ad oggi rispecchia il settimo, ottavo posto in cui siamo e che sicuramente vorremmo migliorare, però ad oggi stiamo dando il 100%, questo è il nostro 100%, più di così, non so. Grazie a tutti.